280 euro al mese per 10 ore di lavoro al giorno. E' la proposta shock ricevuta dalla giovane Francesca Sebastiani che quando ha opposto un rifiuto si è sentita dire che i giovani non hanno voglia di lavorare. La sua denuncia sui social ha sollevato un caso che oggi è stato al centro dell'audizione sul lavoro nero e sottopagato della relativa commissione in Regione Campania. Un'audizione richiesta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. Da questa è nata una battaglia, è nata anche una denuncia, ma è una delle poche perché molti di questi giovani e meno giovani hanno paura del denunciare perché il rischio che corrono è che diventano loro i reietti, non vi accontentano di questi soldi e quindi non lavorate proprio. E rafforzare gli strumenti di controllo è la strada indicata da Giovanni Mensorio, presidente della commissione lavori e attività produttive. Necessario che la Regione Campania incominci ad affrontare con serietà queste tematiche per far sì che le istituzioni possano accompagnare un percorso che ci conduca a delle soluzioni che possano in qualche modo mitigare questo fenomeno che oltretutto va ad incidere su chi quotidianamente e regolarmente mette in campo attività produttive sane. E dunque la Regione ha annunciato la linea dura contro il lavoro nero e sottopagato. L'assessore al lavoro e alle attività produttive Antonio Marchiello ha annunciato un'intensificazione dei controlli, ma anche la volontà di sanzionare i datori di lavoro che formulano proposte di lavoro lesive dei diritti dei lavoratori. E poi l'idea di promuovere un cambiamento culturale che induca a denunciarli. Infine ha annunciato un profondo rilancio dei centri per l'impiego.